Buonasera a tutti, siamo con Molinari, mistera bombonera della bombonera. Allora, partita di questa finale, finita 5 a 2, dominata, inizio alla fine. Allora, raccontaci un po' la partita e la stagione. La stagione è iniziata bene, a metà è andata malissimo, invece dopo le ultime quattro giornate, ragazzi bravissimi, quarti semifinale e finale dominata. Diciamo che la svolta è stata un'ora dopo aver preso, non mi ricordo con quelle squadra, un'ora negli spogliatoi a parlare, dove qualcosa non andava e ha dato un po' la svolta, la stagione. Siamo campioni, campioni, campioni!